È un po' strano allenarsi, un po' inusuale allenarsi in questo periodo perché fa molto caldo e noi non siamo abituati, siamo un po' viziati come pallabolisti, scherzando ovviamente, però è iniziata bene e abbiamo trovato subito il ritmo e stiamo già facendo qualcosa di battuta ricezione con attacco, quindi sono contento, sono contento dei ragazzi che ho trovato, tutti molto motivati e vogliosi per iniziare la stagione dopo questo lunghissimo stop e appunto, come ho detto prima, è qualcosa di nuovo, quindi affrontiamolo tutti insieme, soprattutto con il sorriso. Il mio numero di maglia è il numero uno e il motivo per cui l'ho scelto è perché il primo anno che ho giocato in Serie A ho scelto questo numero. Allora mi aspetto un campionato molto competitivo, proprio per il motivo che non giochiamo da tanto tempo, le squadre sono rafforzate, si è rafforzata anche Cisterna, quindi sicuramente è difficile ma bello da giocare. Per quanto riguarda il dopo campionato invece, quest'anno sappiamo tutti che ci sono le Olimpiadi a Tokyo e quindi l'obiettivo di tutti i giocatori è riuscire a raggiungerle e sarà anche il mio. Grazie a tutti.